Milano l'effetto del derby può essere misurato immediatamente l'appuntamento la Champions League è l'ideale per verificare se l'umiliante 15 sarà l'elettroshock per Milano. Martedì con Newcastle e se l'espiratrice 51 è darà un ulteriore slancio. Mercoledì Real Sociedad. Per ora la solitudine di Pioli emerge. Provata dai fan e immersa in lezioni video alla squadra e l'orgoglio di Simone Inzaghi. Che ha concesso la pensione domenica.